Ciao a tutti da Il Caminante e di Cicloeditore. Con piacere vi leggo una parte, poche righe, di questo libro, di Serenità. Ognuno lascia la sua impronta nel luogo che sente appartenergli di più. Questo è un pensiero di Haruki Murakami. Ho raggiunto la consapevolezza in un posto in particolare. In una piccola località poco distante dalla tomba dove è sepolto Francesco. Ma di questo vi parlerò più avanti. Ci sono dei passi che vanno raccontati prima, quelli che mi hanno accompagnato alla ricerca della serenità. Questa condizione dell'animo non è più avuta all'improvviso e di sicuro non ci sono arrivato in modo scientifico. Non è stato facile raggiungerla e ancora oggi non è completa. Quando mi definisco una persona serena, nonostante tutto, vedo negli occhi delle persone a cui mi rivolgo un'espressione di meraviglia, quasi di incredulità. Se prima della diagnosi mi avesse chiesto di immaginare la serenità e di traturla con un'immagine, vi avevo parlato di un panorama con un cielo sgombro da nuve. Allora ero lontano dall'idea di pace interiore, non ci pensavo neppure. A cosa serve un cielo sereno, una bella giornata di sole, se dentro si vive nella tempesta? Apparenza è poca sostanza. Non dico che abbiano accompagnato la mia assistenza, ma sicuramente hanno abitato gran parte degli anni della mia vita. Oggi, se cammino come mi è capitato di fare sotto un forte temporale e alzo lo sguardo verso una distesa infinita di cumuli nembi, mi sento sereno. Che gran salto ho fatto. È sempre stato così. La serenità non ha mai avuto a che fare con i fenomeni atmosferici. Ci sono cose che fanno parte della vita che me lo hanno ricordato. O meglio, a suon di schiaffoni mi hanno svegliato. A volte devo di averlo scoperto troppo tardi, poi mi fermo e realizzo che ogni giorno che vivo è lungo. È fatto solo all'apparenza di 24 ore. Ogni mattina quando apro gli occhi guadagno del tempo che non si può misurare. Il miracolo non è quello di camminare sulle acque, ma di camminare sulla terra verde nel momento presente e di apprezzare la bellezza e la pace che sono disponibili ora. Queste parole sono del monaco buddista Thich Nhat Hanh, di cui raccolgo i pensieri nel mio diario. Mi trasmettono serenità perché invitano alla ricerca di cose che sembrano scontate, ma che in effetti non lo sono. Per 40 anni ho inseguito la felicità. Mi hanno dovuto diagnosticare il cancro per capire che è necessario semplicemente essere contenti, che devo accontentarmi di quello che ho. Non dovrebbe funzionare in questo modo. Come sentimento la rabbia non mi appartiene più, però quasi ogni giorno mi chiedo come sia possibile ritrovarsi a dover ringraziare una cosa che sta facendo a polpettine la mia vita. A pensarci davvero però non mi rendo, non mi sento grato nei confronti del cancro. Devo invece ringraziare me stesso per come ho reagito a questo male. Questa è stata la vera svolta. A volte c'è da ritirarsi i capelli, poi mi guardo allo specchio e vedevo che non li avevo più. Così era più facile, no? Ero già un passo avanti. Con questa battuta ogni tanto ho cercato di sdrammatizzare per rispondere alle reazioni di chi mi guardava sbalordito. Cosa avrei dovuto fare? Aspettare la morte su un divano? Cercarla in fondo a qualche strada? No, in strada ci sono andato, ma per camminare. Ecco, questo è stato il mio modo di reagire. Camminare non serve, camminare non si fa niente. È un non far nulla. Agli occhi esterni di chi è fermo, questo è camminare. Avere del tempo per non fare nulla. Ma chi è dentro ai propri passi, chi ne riesce a fare scopo ed esistenza di vita, la pensa differentemente. Vede questo non far nulla come tutto, questo perdere tempo come il guadagno più ricco del mondo. Il tempo è il dono più prezioso che ha l'essere umano e solo quando c'è qualcuno che ti dice che è finito o che è poco quello che è ancora a tua disposizione, allora capisci l'importanza di questo regalo. Ringrazio sempre chi mi ascolta per il tempo che mi dedica nel farlo. Può sembrare scontato, ma fa piacere, perché nel profondo sappiamo che è importante. Ho percorso a piedi molti sentieri, coprendo distanze considerevoli e la serenità ha sempre accompagnato i miei passi. Ci sono dei posti in particolare che mi hanno aiutato e sono quelli più semplici. Luoghi primordiali, selvaggi, dove la natura mi ha insegnato a conservare un istante di tranquillità, dove gli alberi mi hanno dimostrato che la vita non è fatta solo di pelle e ossa. Prima quando sentivo parlare di alberi come esseri viventi sorridevo. Forse ci facevo anche qualche grassa risata sopra. Oggi dopo otto ore di cammino in mezzo a una foresta io il rispetto, nutro profonda stima per le piante silenziosi. Un giornalista mi ha chiesto poco tempo fa in cosa credo, se ho fede. Ero in cammino da Spoleto verso Narni. Quel bellissimo paesino arroccato era a circa due ore di cammino, da dove mi trovavo e c'era un forte vento. Io ho risposto in un modo semplice, credo nella madre terra, quella che sto calpestando. Penso che questa sia la serenità. Per me la serenità è anche andare alla continua ricerca, accontentandomi di quello che man mano trovo. Il luogo che ho scelto, o forse che ha scelto me, come punto di inizio dei lunghi cammini è il Monte Santo di Lussari. Ne ho scritto più volte, ogni volta che mi viene chiesto lo nomino. E questa volta lo faccio a prescindere. È un punto di confine, un sito magico, oltre che un luogo di fede. Da dove è situata la grande croce in legno? Se la visibilità lo permette si possono vedere montagne slovene, austriache. Quale posto può essere più ideale per iniziare un cammino? Non ne ho mai desiderato un altro, non ho mai voluto cercare, perché è un luogo che ho trovato. Un crocevia di confine, dove i confini non esistono. Non è così facilmente raggiungibile, ma alla portata di scarpone. Gli elementi qui si scatenano, oppure possono regalare immensa pace. Con un dito posso indicare la direzione che voglio intraprendere o cambiarla a mio piacere. Ogni volta che ho raggiunto la sua modesta vetta, percorrendo il sentiero del pellegrino, sono rimasto contento. Mi sono sentito tutto tranne che perso. Una domanda che spesso mi viene posta, un quesito che ogni tanto riaffiora è Qual è tra tutti i cammini quello che hai sentito maggiormente? Premetto che i sentieri è meglio percorrerli che sentirli. Ma chi mi conosce bene ha capito che le vie raggiunte e percorse dal poverello sono le mie preferite. Mi sono legato tanto alla figura di San Francesco, ricco di nascita, ma diventato ricchissimo solo dopo aver abbandonato ogni cosa materiale. Ci ho visto quel pizzico di follia che forse accompagna me e chissà quante altre persone che camminano e cercano. Come Gesù Cristo è una figura umana che è esistita, reale, con una sua storia che può piacere o meno, ma non è questo il punto. Oggi si dice che sia passato anche dove lui stesso forse non ha mai immaginato di aver messo piede. Quest'uomo, perché è così che mi piace cercarlo, come nel dipinto dello specchio di Subiaco, senza aureole e senza stimmate, ha suscitato un mio interesse. Non l'ho studiato sui libri, ma ho cercato di capire cosa lo abbia spinto a scegliere quella che oggi può sembrare una soluzione estrema e che forse è solo semplicità. Potrei dire di essere un suo fan. Ho chiuso, se cammino vivo, con una sua frase. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Una bella frase, un grande pensiero, che mi è stato d'aiuto. Sono venuto a conoscenza che questa frase potrebbe non essere stata davvero pronunciata dal poverello. Poco importa. A me piace e ho assorbito la bellezza di queste parole. Non ci sono certezze, ma quelle poche che si ha la fortuna di sfiorare, tocca tenersele strette. Ho capito anche questo, camminando. Quindi un piccolo assaggio del camminante, camminatore, pellegrino e viandante, di Ediciclo Editore. E che dire, buona vita, che ci sta sempre bene. Buona vita a tutti, dallo Spino.